e noi oggi cerchiamo di far uscire dal mercato qualche cosa che possa rompere rischetti. In pratica cerchiamo di realizzare nel tuffo, che è una pietra povera materana, e abbinarlo ai vari settori in maniera tale da poter offrire un prodotto completamente nuovo, completamente unico nel suo genere e poterlo anche vendere a un prezzo che sia rispettabile. Quindi offrire qualcosa che gli altri non possono offrire con una qualità molto elevata di quello che sono l'agroalimentare, l'educare, con un prodotto che è prettamente al mercato più povero, ci rivolgeremo a un mercato più come l'unico, ma solo loro in questo momento hanno disponibilità economica, quindi dobbiamo cercare di catturare la loro attenzione. Questo può essere fatto sicuramente come l'anno, così come va benissimo il terreno, così come va benissimo il terreno, così come va benissimo la terra, però forse non dovremmo fermarsi solo a questo. Le manifestazioni dirette vanno bene, però dobbiamo usare anche altri metodi, quello che sono gli investimenti, quello che sono gli investimenti, quello che sono